Non è cambiato assolutamente nulla. Solo poche settimane fa vi abbiamo reso noto di un'importante operazione condotta dai carabinieri del comando provinciale di Bolzano e che aveva dato un duro colpo alla prostituzione bolzanina gestita da 5 persone di nazionalità rumena. 5 degli arrestati in quell'operazione, denominata sabotage, sono già stati rilasciati e quindi a piede libero. Abbiamo tolto le prostitute da Via Macello e dai piani di Bolzano, dicevano in conferenza stampa i militari dell'arma. E invece le prostitute sono tornate, come fosse successo nulla. Le immagini che vi proponiamo sono state girate nella tarda serata di ieri affiancando una troupe di RTTR Alto Adige. Come detto, nulla è cambiato. Le prostitute sono lì al loro posto, un continuo via vai di macchine, caricano la lucciola prescelta e poi via. Qualche minuto dopo si fa ritorno al proprio posto in attesa di un nuovo cliente. Insomma, nonostante lo sforzo da parte delle forze dell'ordine, sembra proprio impossibile riuscire a smantellare in maniera definitiva un fenomeno che colpisce la nostra città così come tutte le città del mondo. Il lavoro più antico del mondo che frutta, nonostante tutto, fior di centinaia di euro, nonostante il periodo di grave difficoltà economica.